Continuiamo con le belle canzoni, continuiamo con le canzoni che parlano d'amore e arriva l'appuntamento, quello che ci ha fatto incontrare tantissimi anni fa e intanto ricordiamo che martedì sera 24 aprile insieme all'orchestra di Luca Canali abbiamo l'appuntamento, esatto, segnate sul vostro taccuino martedì 24 insieme all'orchestra di Luca Canali al Circo Larci Colorno faremo una bellissima serata di primavera con le due orchestre sul palco e ricordiamo anche sabato sera qui ci sarà una bellissima serata di beneficenza però non trovo più il bigliettino e rileggerò più tardi poi le cose importanti intanto, l'altra volta la torta, no niente, la prossima volta portiamo i tasti e cini, va bene? e arriva l'appuntamento, l'appuntamento di Martini e c'è anche l'appuntamento della lotteria a me da Londra l'appuntamento di Martini l'appuntamento di Martini e io sono qui che ti aspetta con l'ansia che ho dentro non mi importa se non siamo più giovani ma siamo nonni nella vita si può amare adesso come a vent'anni ed io amo te e voglio rivivere l'appuntamento che ci ha fatto incontrare il fiore del te che hai diviso l'amore con te in ogni momento e tutta la vita il mio fianco stasera da noi sei l'appuntamento che ormai ha unito i tuoi cuori che non invecchiano mai voglio rivivere oh Sono qui davanti allo specchio Mentre ti aspetto Con la mano accarezzo il mio viso Segnato dal tempo Questa sera ho messo il vestito Che a te piace tanto Questa sera voglio rivivere Il nostro incontro Ed ora sei qui Ti stringo la mano E ancora una volta Io dico a te Quanto ti amo Un fiore per te E hai diviso l'amore con me In ogni momento E chiudare la vita al mio fianco Stasera per noi C'è un affondamento che ormai Ha unito due cuori che Doni in vecchia non fa Un fiore per te Stasera per noi C'è l'appuntamento che ormai ha unito due cuori che non invecchiano mai, ha unito due cuori che non invecchiano mai. Grazie, grazie molto, grazie.